Sei lavoratori in nero impiegati a bordo di peschereci o di imbarcazioni da diporto, alcuni dei quali percettori illegittimamente del reddito di cittadinanza, sono stati individuati dai finanzieri della sezione operativa navale di Alghero in collaborazione con il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. La scoperta è stata fatta nel corso di una serie di accertamenti sulle imprese commerciali che operano sul mare. I finanzieri, incrociando le informazioni contenute nella banca dati del corpo con quelle relative ai documenti fiscali delle aziende, hanno scoperto che alcune avevano un volume d'affari e una tipologia di attività che non corrispondeva al numero esiguo di dipendenti ufficialmente in organico. Da qui i controlli che hanno portato a scoprire i lavoratori in nero. Tre pescatori e tre operatori marittimi generici sono stati colti in fragranza senza un regolare contratto di assunzione, senza aver sostenuto i preventivi esami clinici necessari per l'obbligatoria certificazione medica prima di prendere l'imbarco. I datori di lavoro responsabili con sede legale anche fuori dalla Sardegna dovranno corrispondere quale sanzione per l'impiego di lavoratori in nero 3.600 euro per ogni soggetto trovato a bordo intendo a svolgere le mansioni tipiche delle rispettive attività imprenditoriali. Sanzione maggiorata a 4.320 euro nel caso di impiego di lavoratori risultati anche per cettori del reddito di cittadinanza. Il totale delle sanzioni accertate dai finanziari ammonta a oltre 23.000 euro. I percettori del reddito di cittadinanza sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per non aver comunicato all'Inps la variazione della propria posizione di impiego e di conseguenza il rispettivo reddito personale. Rischiano penne fino a tre anni di reclusione. Rischiano penne fino a tre anni di reclusione. Grazie.